salve ragazzi buongiorno oggi giornata speciale compio la bellezza di otto mesi di vita e sì otto mesi fa qualcuno mi ha detto che dovevo vivere di nuovo un'altra volta e sono di nuovo qua e niente era solo questo volevo dirti che alla faccia di tutto di tutti i pronostici sono passati otto mesi sono qua che continuo a lottare un giorno va meglio l'altro un po meno bene comunque continuo a crederci continuo a crederci perché siete in tanti a darmi la forza ultimamente con queste nuove iniziative ho anche un altro tipo di aiuto vi ringrazio sono molto contento ci sentiamo alla prossima ciao